La Puglia prima di tutto va all'attacco del governatore Anichi Vendola e dell'assessore regionale alla salute Tommaso Fiore. Dopo aver presentato una serie di interrogazioni, il capogruppo Salvatore Greco ha convocato la stampa per fare il punto sulla situazione. Molte le questioni sul tappeto, dalle stabilizzazioni del personale sanitario al processo di internalizzazione dei servizi sanitari. Sul tema delle stabilizzazioni, ha detto Greco, l'Aggiunta regionale sta bleffando, scarica sul governo nazionale o addirittura sul Parlamento la responsabilità di emanare un provvedimento che tolga le castagne dal fuoco, ma chi ha fatto il danno è Vendola e lui soltanto può e deve tirar fuori dal dramma centinaia di famiglie. Temiamo che il ruolo politico di Vendola, leader di un partito di opposizione a questo governo, possa danneggiare la Puglia. Per questo gli ho chiesto di fare il presidente della regione, non soltanto il politico nazionale. Per Greco la soluzione è nelle possibilità dell'Aggiunta per due motivi. Intanto è stata raggiunta emanare una delibera che ha dato l'indirizzo alle ASL costringendole a licenziare i dirigenti medici che erano stati stabilizzati in virtù di una legge che Vendola ha fortemente voluto e che la Corte Costituzionale ha bocciato. In secondo luogo la chiave di soluzione è legata ad un adempimento che le ASL tardano ad aspettare, ovvero la revisione delle piante organiche. La sentenza della consulta aggiunge non obbliga all'annullamento dei contratti. Spetta all'ASL valutare se ha ancora bisogno di quel personale e confermare o meno i contratti sulla base delle proprie esigenze. Sono pertanto essenziali le piante organiche. Le sentenze dei giudici del lavoro stanno condannando la Regione al reintegro dei medici licenziati e stanno riconoscendo loro un risarcimento del danno pari a 5 mensilità, ovvero oltre 30.000 euro ciascuno. Se tutti facessero ricorso per la Regione significherebbe sborsare 9,5 milioni di risarcimento. Si potrebbero bandire concorsi pubblici che assegnino punteggi di favore e quote riservate a chi aveva maturato il diritto alla stabilizzazione. La situazione di allarme personale riguarda anche gli infermieri. I vertici delle ASL pugliesi ormai viaggiano a vista. Attivare la mobilità extra-regionale, quando ci sono oltre mille infermieri precari che nella sola provincia di Bari hanno visto non rinnovato il proprio contratto, è uno dei provvedimenti irrazionali che le ASL stanno emanando nelle ultime settimane. A proposito delle internalizzazioni, quando è stato deciso che si doveva procedere alla internalizzazione dei servizi di pulizia, ausiliariato, portierato, ci è stato detto, aggiunge Greco, che questo avrebbe comportato un risparmio per le casse regionali. In realtà, così non è. Secondo uno studio, il maggior costo per le ASL sarebbe variabile tra il 115 e il 156%. Quel che è peggio è l'espulsione dal mondo del lavoro di centinaia di lavoratori che erano stati assunti dopo il 31 dicembre 2009. La legge non consente l'assorbimento da parte delle società in house, ma avrebbero continuato tranquillamente a lavorare se fossero rimasti con il contratto a tempo indeterminato che avevano e che in virtù della clausola del cosiddetto articolo 4 sarebbero passati da una cooperativa all'altra, avendo nel frattempo acquisito il diritto alla titolarità di postazione dopo quattro mesi di servizio. Oltre a questi rimangono senza lavoro quelli che nelle cooperative svolgevano funzioni di quadro, funzioni dirigenziali, i responsabili di postazione, i coordinatori di servizio. La Puglia e il rapporto spesa-pil conclude Greco. Tre più alti d'Italia, malgrado negli ospedali ci siano meno medici e infermieri rispetto alla media nazionale per mille abitanti. Il numero di morti sospette per mala sanità è triplo rispetto al resto del Paese. Questa è la regione dove si spende di più per farmaci, dove il tasso di ricovero ordinario è il peggiore d'Italia e dove l'Aggiunta ha evitato il commissariamento per qualche milione di euro.